CELLUSBI è un progetto che nasce da un'idea che è venuta per azzardo dicendo ma che cosa hanno fatto i nostri vicini di casa per risolvere delle problematiche che sicuramente legate ai volumi hanno significati più importanti tipo la sostenibilità dei prodotti e fra le aziende che avevano provato e hanno da anni cercato di sostituire e di essere innovativi c'era chiaramente un'azienda che si chiama Novamont che è un fiore all'occhiello per quello che è l'innovazione e dei sogni che poi si trasformano in realtà. Abbiamo identificato degli ingredienti di base o delle tecnologie di base che potessero essere trasposte, quello che viene chiamato come cross fertilization tecnologico in un'applicazione cosmetica. Adattate, personalizzate, targetizzate per quelle che sono le necessità della cosmetica potevano essere trasporti da un settore all'altro. Quindi CELLUSBI è potremmo prendere qualche cosa utilizzato in alcuni settori come tecnologia e renderlo interessante e utilizzabile per avere un prodotto cosmetico sicuro, efficace e che chiaramente avesse un impiatto ambientale minimo. Novamont ha creduto in ogni caso come noi in qualche cosa che fosse utile a tutto un progetto, utile a una filiera e insieme a noi che siamo un'azienda sicuramente di dimensione più piccola rispetto a quella che sono i nostri competitor e anche a quello che è Novamont. Abbiamo investito su qualche cosa che è un credere, credere in un progetto.